Una metafora suggestiva, la Casa dei Pastori, nel titolo dell'ultimo studio di Fiorella Falci. Una storia del seminario nisseno, nei suoi rapporti con la società, in più di cento anni di storia, dalla fondazione della Diocesi nel 1844 ai nostri giorni, che si presenta nel Salone del Museo Diocesano martedì 3 novembre alle 17.30, a cura della casa editrice lussografica dell'Associazione Provinciale della Stampa e dello stesso Museo Diocesano. Relatori Sergio Mangiavillano, Monsignor Di Borio Campione e Salvatore Farina, insieme all'autrice. Moderatrice la giornalista Evana Baiunco, dopo il saluto di Alessandro Anzalone, segretario di Assostampa, e dell'editore Salvatore Granata. Otto vescovi che si sono succeduti in 170 anni scandiscono la storia di questo palazzo, in cui si è formato il clero, anche come classe dirigente della società, promotore di mobilità sociale, al centro di una rete di rapporti con le istituzioni, la politica e il potere, che hanno costruito la storia. La rivoluzione del 48, il vescovo Ostromillo, il grande Guttadauro, costruttore della Diocesi, e la sua resistenza alla piemontesizzazione burocratica dell'Italia Unita. Succaro è il movimento cattolico delle casse rurali e delle cooperative che contendono il campo alla mafia, e la reazione dei poteri forti che lo costringe alle dimissioni. In Treccialagli, il vescovo Santo, amico di Pio X, dà la spiritualità fascinosa e carismatica, e poi Iacono nel Trentennio tra le due guerre, che raddoppia il seminario e guida la ricostruzione dopo le bombe del 43. Travolto poi dalle lotte di potere della democrazia cristiana fino a Monaco, il vescovo del concilio, a Garzia, con la stagione fertile della promozione umana, che rimane incompiuta, e infine Russotto, con il palazzo che si apre al territorio, motore di un'azione pastorale che sta ricollocando la chiesa nissena al centro del contesto. Con il linguaggio del reportage, scandagliando centinaia di notizie, il libro ricostituisce il mosaico della società nissena e delle sue trasformazioni tra due secoli, con accelerazioni spesso drammatiche e a volte risolte, in cui il ruolo della chiesa emerge sotto una luce inedita, proponendo nuove chiavi di lettura per momenti cruciali e finora poco studiati della storia del territorio.